Come si fa per usare ChatGPT in Italia ora che è stato bloccato dal garante della privacy? Lo so che ci state provando da giorni. Oggi non solo vi farò vedere come poter continuare a utilizzare in tranquillità ChatGPT, ma vi farò anche vedere quali sono 5 modi suggeriti proprio da ChatGPT in cui possiamo implementare l'intelligenza artificiale nel nostro business fotografico. Dopodiché rimanete fino alla fine del video perché andrò a dirvi 5 cose per cui io uso l'intelligenza artificiale e saranno molto diverse da quelle che mi ha suggerito il calcolatore elettronico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche se normalmente parlo di fotografia e videomaking, oggi ci dedichiamo all'intelligenza artificiale. Andiamo infatti a dimostrare come è possibile utilizzare ChatGPT nonostante il blocco del garante per la privacy. È una cosa in realtà molto semplice. Alcuni di noi già conoscono la tecnologia VPN. È sufficiente utilizzare uno di questi tool a pagamento o anche gratis per aggirare il blocco. Insomma, una cosa che anche uno studente delle elementari è in grado di fare. Infatti lo stanno già facendo per farsi scrivere temi e quant'altro. Prima di cominciare però io ti ricordo che se temi come questo ti interessano, ti invito a iscriverti al canale cliccando il bottone qui sotto. Attiva anche la campanella per non perdere le notifiche e lascia un like a questo video. Molto bene, ma andiamo a tuffarci all'interno del mio computer. Come potete vedere e come già sapete, ChatGPT è stato bloccato in Italia per cui al momento è impossibile utilizzarlo. Ma noi qui abbiamo una soluzione molto molto semplice. È sufficiente cercare una buona tecnologia VPN. Nel mio caso io vi faccio vedere hola.org, che mi è stata suggerita perché io sono un caprone, quindi non è farina del mio sacco. È sufficiente digitare hola.org. Ci ritroveremo su una pagina dove ci viene richiesto di installare una componente aggiuntiva per Chrome. Credo ci sia anche per altri browser, non ho verificato. Lasciate perdere Internet Explorer. Vi consiglio comunque di utilizzare Chrome. Noi non facciamo altro che andare a installare questa componente aggiuntiva. Dopodiché la pinniamo in alto se ci serve perché comunque la utilizziamo, quindi è bello avercela sempre lì. Nel momento in cui proviamo a utilizzare ChatGPT ci viene negato l'accesso. Ma se noi attiviamo hola.org abbiamo la possibilità di far credere al nostro computer di stare navigando da un altro paese. E quindi quello che succede è che ci verrà chiesto di rifare il login su ChatGPT, anche se eravamo già logati, perché comunque il computer crede che non siamo più noi, ma che il login venga da un altro paese. Ma a quel punto saremo perfettamente in grado di navigare. Ed ecco che io posso chiedere a ChatGPT di raccontarmi quelli che secondo lui sono 5 modi di implementare l'intelligenza artificiale nel mio flusso di lavoro da fotografo. Vediamo quali sono state le sue risposte. Me le sono segnate. Riconoscimento automatico degli oggetti e delle persone. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per identificare automaticamente le persone e gli oggetti nelle foto, semplificando l'organizzazione e la ricerca di immagini specifiche. Ok, questa gliela possiamo passare. Categorizzazione automatica delle immagini. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per categorizzare automaticamente le immagini in base a una serie di criteri, come ad esempio il tema della foto o il tipo di fotografia. Mmm, ni. Cioè, non ne vedo l'utilità. Cioè, l'obiettivo della mia vita non è catalogare le foto in questo modo. Terzo motivo, miglioramento automatico dell'immagine. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per migliorare automaticamente la qualità delle foto, ad esempio regolando la luminosità, il contrasto e la nitidezza delle immagini. Mmm, sì, non lo vedo molto come una cosa da professionisti, la vedo più come una cosa da foto delle vacanze, perché quando io faccio queste modifiche, devo essere preciso su quello che sto facendo e non può essere automatizzata, secondo me. Ricerca semantica delle immagini. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per effettuare ricerche di immagini basate su concetti o parole chiave, semplificando la ricerca di immagini specifiche. Vabbè, sì, quello che di fatto succede già quando usiamo Google, secondo me. Ultimo motivo, generazione di immagini. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per generare nuove immagini partendo da fotografie esistenti o da altre fonti, offrendo nuove possibilità creative per i fotografi. Allo stato attuale è acerba questa tecnologia, eh. Se vogliamo l'effetto wow su Instagram va bene, ma se vogliamo fare un lavoro non va assolutamente bene. Vi faccio un esempio specifico. In ufficio abbiamo provato a generare un'immagine per un cliente, quindi abbiamo detto, un cliente, facciamo finta anche che sia fittizio. Abbiamo detto, generami una pubblicità con dentro una lattina di Pepsi. E attenzione, l'intelligenza artificiale non può utilizzare brand attualmente, quindi fa una cosa che sembra una Pepsi, ma se tu stai lavorando per Pepsi e gli fai vedere quella roba lì che sembra una cosa tutta storta con un logo che somiglia, ma è una caricatura del logo originale, questi ti guardano e dicono, questo è scemo. Chiediamo a uno bravo la prossima volta. Quindi, tecnologia secondo me è acerba e secondo me Pepsi preferisce farsela fare da me, in questo caso. Ma ora, bando alle ciance, vado a dirvi quelli che sono i motivi per cui io utilizzo l'intelligenza artificiale. Partiamo dal primo motivo. La cosa che odio di più al mondo è scrivere le descrizioni. Per cui io implemento ChatGPT per scrivere descrizioni di contenuti vari ed eventuali, quindi nel momento in cui magari devo fare un post, gli posso dire, ChatGPT, ciao, come stai? E io sono sempre gentile, perché quando ci stermineranno forse con me ci andranno giù più cauti. Gli dico sempre, ciao, come stai? Ascolta, mi serve il testo per un contenuto che devo pubblicare, bisogna dirgli tutte le volte, o ti crei una chat che rimanga lì così lui ha in memoria quello che vi siete detti prima, o se no tutte le volte ti salvi un intro magari in cui gli dici o un account Instagram in cui faccio questo, questo e quest'altro, mi serve il copy per un post in cui faccio vedere un cupcake. E lui automaticamente ti genera un copy più bello di quello che faresti tu, perché almeno io non sono un copy, quindi io non so scrivere, non sono un copywriter, non mi piace neanche, quindi non è il mio. È come se, io immagino che molti di voi da casa che mi seguite siano come me fotografi o videomaker, se io vi do in mano la cazzuola e vi dico di mettervi a mettere la calce, magari lo fate anche, magari vi mettete anche lì di buzzo buono, però non è il vostro lavoro, voi eravate venuti lì con la macchina fotografica e io vi ho messo a fare i muratori. È un altro lavoro, dignitosissimo per carità, io ho colleghi copy in ufficio che sono bravissimi e fanno un lavoro più intellettuale del mio, quindi sono anche invidioso, ma non è il mio, a me non piace quella roba lì, se no avrei scelto di fare quella e avrei lasciato la macchina fotografica appesa al chiodo. Per cui questo è il primo motivo. Secondo motivo, la ricerca delle parole chiave. Nel momento in cui io devo pubblicare un contenuto, mi viene molto comodo avere un confronto con ChatGPT, non è che prendo le parole chiave che lui mi dà e le uso, perché ho riscontrato che non è preciso, o meglio, non fa una ricerca accurata come la farei io. Quando io faccio una ricerca sulle parole chiave, e questo lo faccio perché mio collega copywriter mi ha insegnato come funziona la SEO e quindi io certe cose le so fare. Per cui nel momento in cui io faccio una ricerca per le parole chiave, le cerco con determinati criteri, le cerco a coda lunga, a coda corta, e quindi faccio un bel lavoro completo. Dopodiché chiedo a ChatGPT, mi fai una ricerca sulle parole chiave per questo argomento e vedo che cosa mi viene fuori. La maggior parte delle volte, stiamo parlando di ChatGPT 3, quindi la versione 4 a me non è ancora arrivata, la attendo con trepidazione, visto che adesso riesco di nuovo a usarla con questo metodo che vi ho fatto vedere. Se io gli do una ricerca per parole chiave di questo tipo, lui mi dà un elenco di parole chiave, sono meno accurate delle mie. Spesso e volentieri tira a indovinare, prende delle cose che per l'attività in questione che io sto seguendo, che può essere la mia ma può essere per un cliente, non vanno bene. Spesso mi tira fuori delle parole che non stanno né in cielo né in terra, o delle parole chiave a coda troppo lunga, cioè facciamo finta. Io sto pensando alla mia attività, per cui sto cercando fotografo e Milano come parole chiave a coda corta, magari fotografo Milano come parole chiave medie, e magari fotografia industriale Milano come parola chiave a coda lunga. ChatGPT magari mi tira fuori la parola chiave a coda lunghissima, stai cercando un fotografo industriale nella città di Milano, è troppo lunga, quindi non è preciso. Però è utile avere un confronto, perché su 20 parole chiave che mi trova, 17 non le uso, però magari 3 non ci avevo pensato. Quindi da questo punto di vista mi viene utile. Un'altra cosa per cui lo uso sono le descrizioni quando carico fotografia di microstock. Quindi se vi interessa la fotografia di microstock, vi linko in card la playlist in cui ho già parlato di questo argomento, in cui vi faccio vedere come guadagnare soldi vendendo le vostre immagini online. C'è anche un link affiliato per iscrivervi direttamente a Shutterstock subito qui sotto con un passaggio agevolato, quindi cliccate sul link se vi interessa cominciare a guadagnare subito vendendo le vostre immagini. Una cosa che a me non piace fare è scrivere le descrizioni, per cui io posso dire a ChatGPT, parlando in inglese stavolta, perché sul microstock le vogliono in inglese, gli posso dire fammi una descrizione, anzi lo posso dire anche in italiano in realtà, perché gli posso dire fammi una descrizione in inglese di una foto in cui si vede un cupcake su un tavolo. E lui mi fa la descrizione. Di solito me la farà troppo lunga, quindi io posso dirgli fammi una descrizione di 200 caratteri, posso anche essere così specifico, e più o meno me la fa giusta, così che io posso prenderla e metterla dentro nella mia maschera, nella piattaforma di microstock che sto utilizzando. Un'altra cosa per cui a me piace chiedere aiuto a ChatGPT, non è che prendo quello che mi dà, però prendo spunto, mi faccio fare diciamo una bozza, sono i preventivi e le mail quelle un po' delicate. Quindi nel momento in cui, sapete, magari uno deve mandare un preventivo e gli manca la formula elegante, ovviamente io ho un mio modello di preventivo che utilizzo con una formula elegante, ci ho messo anni ad affinarla, magari in questa fase posso chiedere a ChatGPT, senti, mi scrivi un preventivo, gli dico, guarda, io sono un fotografo di Milano, faccio questo, 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 ho un cliente che è uno studio medico che si occupa di riparare le ginocchia dei calciatori, mi fai un preventivo, mi scrivi un preventivo con una formula elegante per mandare la fattura a questo tipo di cliente e questa è una cosa che ChatGPT fa molto molto bene perché ha a disposizione dei modelli preimpostati quindi io posso prendere quello che mi ha scritto di buono, modificarlo a mia immagine e somiglianza in modo che non stoni con quella che è la mia attività e questa è una cosa per cui mi fa risparmiare un sacco di tempo perché magari non l'avrei fatto, avrei detto, ho il mio modello standard, mando quello, invece in questo caso posso personalizzare un pochino, identicasi per quanto riguarda le mail, magari un cliente che mi chiede un preventivo, quindi un primo contatto con un cliente, io posso chiedere a ChatGPT, data la mail del cliente di cui ti fornisco il testo, mi scrivi una risposta tenendo conto che la mia attività è di questo tipo, in questo caso ChatGPT mi scrive un testo di risposta, anche lì non è che lo prendo per buono, prendo la formula iniziale con i saluti e magari prendo la parte in cui dice a fronte del servizio da lei richiesto, si richiede il pagamento di eccetera eccetera, prendo quei pezzi lì e poi certe frasi le modifico in maniera tale che corrispondano effettivamente a quella che è la mia attività, a quello che faccio, a quello che sono, quindi ovviamente non potete pensare di prendere quello che fa ChatGPT e usarlo così, però vi fornisce uno scheletro abbastanza ampio su cui poi dovete soltanto mettere i puntini, quindi è molto comodo da quel punto di vista. Un'ultima cosa per cui credo di poter cominciare a implementare questa tecnologia nel mio flusso di lavoro è la parte di convincimento, ovvero capita molto spesso di dover motivare le proprie scelte con un cliente, di dovergli dire no guarda la foto del post di Pasqua non te l'ho fatta pacchiana come la volevi tu ma ho cercato di fartela un po' più elegante, quindi non ho fatto uova di cioccolato che esplodevano a destra e a sinistra ma ti ho fatto una cosa fine, uno sfondo neutro, tinta piatta con un uovo di Pasqua fatto solo con un outline. Molto spesso tu devi motivare queste cose a un cliente. Ecco, con ChatGPT hai uno strumento in più perché puoi andare dentro a ChatGPT e farti dire quello che vuoi ovvero gli puoi dire per un'attività tal dei tali sul territorio di Milano che vuole fare un post di Facebook per augurare la buona Pasqua che cosa consigli di fare? Un post molto pacchiano o un post raffinato ed elegante? Probabilmente già se gliela metti lì così ChatGPT dirà dipende ovviamente dal tipo di attività tieni conto ovviamente che perché ChatGPT risponde sempre così è sempre ambiguo, ti dà sempre tutti e due i pesi tieni conto che un post pacchiano attirerà un certo tipo di clientela mentre un post raffinato potenzialmente può attirare una clientela più elevata. Fai vedere così, dici guarda, noi abbiamo un sistema elettronico di previsione di come potrà potenzialmente performare un post e ti faccio vedere che un post pacchiano come lo vuoi tu potrebbe non essere la scelta adatta. Questa è un'altra cosa per cui secondo me si può implementare questa tecnologia attenzione però bisogna sempre far passare al cliente che è una tecnologia non alla portata di tutti cosa che è vera perché se tu sei analfabeta di ritorno non hai pazienza non hai voglia di scoprire le cose sei un dinosauro digitale eccetera eccetera non riesci a usarla questa tecnologia bisogna avere pazienza vi dirò che io sono riuscito non senza un po' di fatica a far dire delle parolacce a ChatGPT non è stato facile e se vi interessa sapere come e vedere un video dedicato vi invito a farmelo sapere in un commento è stato difficilissimo fargli dire delle parolacce e ho fatto degli esperimenti e ho riscontrato che ChatGPT non risponde assolutamente alle leggi della robotica di Asimo va assolutamente no il che è molto preoccupante ciò non di meno con questo contenuto vi faccio vedere come si può continuare a usarlo nonostante il blocco tanto fra un po' ce lo sbloccano non si può far finta che il futuro non esista amici detto questo fatemi sapere sempre in un commento che cosa ne pensate se avete imparato qualcosa se non avete imparato niente a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video a me non resta a me non resta che 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 a me non resta che